Ed eccoci qua, pronti a fare un warboss. Abbiamo tutti gialli perché siamo Season, però abbiamo inserito un Brutal Heart che non è male, un paio di teschi. Siamo pieni di smeraldi. Abbiamo una build piuttosto simpatica. Giochiamo con Poacher e con Twisting Blade. Abbiamo una palanca di passive. Abbiamo il doppio salto. Abbiamo Dark Shroud che è molto utile. Abbiamo un oggetto leggendario che ci fa mettere un clone. Tipo io uso questo. E ZA, c'è il clone. E il clone dopo un po'... Fa danno. E questa è la mia bitch. Guardate quanto è sexy la mia bitch. Guardate quanto è sexy la mia bitch nel suo party. Quanto siamo cool. E ora aspettiamo questo minuto e mezzo. Allora, le passive ce l'abbiamo. Quello che noi dovremmo fare per tutto il tempo... Guardate quanto è bella starma. Quello che noi faremo tutto il tempo sarà piazzare trappole. Ben fatto. Mi serve di flessare un po' di skill d'ossacente. ma fondamentalmente saremo sempre alle spalle di questa piazzana di Ashaia. E cercheremo tutto il tempo di fare danno da stab. Quindi saremo tutti stab damage. che non è mai male lo stab damage. Non è mai male lo stab damage. Vediamo però questi quattro simpatici amici. Azaf, bakg, gg, 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 gg. Io sono Nightshade quarta. Perché Nightshade quarta? Beh, non potete facilmente immaginare. Ah, la prima Nightshade. Quanti ricordi. Quanti ricordi la prima Nightshade. Quanti ricordi la seconda Nightshade. Sono trent'anni che prendeva il gioco contro le corse scolto. Sono giusti sempre sempre uguali. E' arrivata. She's Arrived. OLEEEE! E' accrociata. Guarda, stai l'ultimo! 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 I peggiori si prendi tramun як Tory che lo faccia bene. E' spaduta condire i mostriree n Shorty, ftFOTTTI type. Guarda, stai l'ultimo! Guarda, stai l'ultimo! Guarda un altro campo che lo facc'è per dare! Fistare i posti! Su entusi! Guarda, stai l'ultimo! Guarda un nome della mora! Le salto di Sir Urban era la caduce! Non posso ancora farlo Mi serve più tempo Non posso ancora farlo Posso ancora farlo Posso ancora farlo Non ho abbastanza Posso ancora farlo 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 Ok, ok. Ok, ok, ok. Grazie a tutti 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 Posso ancora farlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Serve più tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Notevole In un'infinità di modi Brutale Mi piace Oh Una Una Carino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti